Buonasera, grazie, ma soprattutto grazie alle persone che stanno lavorando. Sono loro l'esempio che noi dobbiamo tenere sempre in considerazione. È il militante, il sostenitore, quella persona che ci mette l'anima, che ci deve spingere ogni volta nel nostro impegno istituzionale a essere anche più determinati, più incisivi, più duri. Il movimento della Lega è un bel movimento perché in questo momento, ad esempio, ci sono quattro feste della Lega per la Bergamasca, sono le uniche quattro feste di partito che ci sono in tutta la Bergamasca. Nessun altro partito ne sta facendo nemmeno uno straccio di festa alla fine di agosto. Questo vuol dire che vivere le comunità, far vivere i nostri paesi, vivere in mezzo alla gente, essere nati per la gente, stare tra la gente vuol dire conoscere quelle che sono l'ospedativa, soprattutto vuol dire non tradire quelle che sono le promesse che si sono fatti, quelle che sono gli ideali per cui ci battiamo. Daniele Belotti ricordava la storia della Lega nata a Bergamo, in Valle Seriana, sicuramente, un luogo importante, un luogo da cui spesso siamo ripartiti. La Bergenfest è un punto di riferimento nella storia della Lega per quello che rappresenta al pari, magari, tante altre realtà comunali, sicuramente altrettanto importanti, ma qui c'era un qualcosa in più, quel germe che ha permesso di far nascere tutti noi, all'interno di tutti noi, uno spirito indipendentista, quella voglia di lottare per la nostra libertà. Ecco, tanti anni fa, noi ci siamo svegliati, grazie a Umberto Bossi, quegli ideali che lui ci ha insegnato, ci ha aperto gli occhi, ci ha permesso di capire che erano importanti, che erano fondamentali, sono ancora la linea di indirizzo della Lega, rappresentano ancora l'obiettivo della Lega, l'essere padrone a casa nostra, tradotto in prima al nord, dell'attuale segretario federale Roberto Maroni, che tutti noi abbiamo eletto, ed è il segretario federale della Lega, sono gli ideali per i quali noi ci battiamo, e per i quali magari dovremmo fare anche dei sacrifici, sicuramente sponendoci in prima persona, soprattutto chi è all'interno delle istituzioni. Del resto, nessuno ti regala nulla, c'è sempre stato detto nei discorsi di Umberto Bossi, e nelle tante battaglie che abbiamo fatto, abbiamo provato sulla nostra pelle questa verità. Nessuno ci regala nulla, ma noi siamo disposti a pagare qualcosa, a pagare molto, per ottenere la nostra libertà. Questo Roma deve capirlo fino in fondo, e noi siamo disponibili a giocare la partita fino in fondo. Il messaggio che vi lascio è questo, assieme alla necessità, lo diceva Daniele, di confrontarci in modo aperto all'Assemblea Provinciale, all'Assemblea Nazionale di Bugugiate, all'Assemblea, o meglio alla riunione che faremo a Venezia, portando tutte quelle idee buone, che devono venire da tutte le menti, tra virgolette, illuminate, che abbiamo all'interno della Lega, e che non sono necessariamente coloro che stanno negli alti vertici delle istituzioni, stanno anche lì, ma stanno anche all'interno del buonsenso, che tutti coloro che militano all'interno della Lega, anche a livello di sezione, possono tirar fuori, possono proporre, devono proporre, devono mettere all'attenzione di tutti. Quindi andiamo avanti così, uniti, confrontiamoci, critichiamoci, ma ricordiamoci che l'obiettivo è abbattere Roma. Grazie ancora.